Le prospettive di Diventerà bellissima a livello locale e anche a livello nazionale. Dopo il congresso di Catania parla il presidente della regione Nello Musumeci. Vediamo l'intervista di Nino Amante. Presidente, si parla di svolta, di svolta verso il centro. Mi sembra davvero una sorpresa questa interpretazione. Il nostro è un movimento di centrodestra. E' chiaro che raccoglie voti di destra e deve raccogliere più voti di centro. E siccome il grande elettorato del mondo cattolico, moderato, centrista, non va più a votare in gran parte, una forza politica deve essere capace di interpretarne gli umori, i desideri, con un messaggio rassicurante, con un messaggio convincente. Guardando al quadro politico nazionale, qual è l'orizzonte verso il quale pensate di muovervi? Noi riteniamo che il movimento debba accompagnare questa fase del governo regionale. Debba promuoverne la diffusione in ogni angolo dell'isola. Se poi in una prospettiva nazionale questo nostro contributo dovesse valere per mettere assieme un nuovo soggetto politico, beh, noi ci siamo, ma se mi guardo attorno non vedo in questo momento elementi di novità. Lei ha lanciato un richiamo molto severo alla coalizione di governo, ma qual è il problema al di là dei numeri di questa maggioranza che non c'è? Temo che all'interno della coalizione, noi non abbiamo maggioranza in Parlamento, ci sia qualcuno che ancora non abbia perso di vizietto ed è convinto che la ricerca del particolare possa soddisfarsi tentando di lanciare messaggi dedicati al Presidente della Regione. Non hanno capito niente, debbono cambiare mentalità perché il centrodestra è essenzialmente etica della responsabilità.